Il suo ultimo film, Io e lei, parla di una relazione omosessuale in un momento in cui in Italia c'è molta attenzione sul tema del gender. Un tema che in America ha portato alla regolarizzazione dei rapporti omosessuali. Che reazione ha avuto dal pubblico italiano e che cosa si aspetta da quello americano? Sì, la cosa che mi ha spinto a pensare e a scrivere il film Io e lei è stata proprio questa. Era l'idea che in Italia in realtà non era mai stata raccontata una relazione fra due donne. Ci sono stati molti film sull'omosessualità maschile ma non su quella femminile. O comunque non delle storie centrate su una relazione dove la storia, il soggetto fosse proprio una relazione d'amore fra due donne. Ogni tanto comparivano dei personaggi di giovani donne omosessuali in film corali. Però mai un film centrale su questo. Secondo me dipendeva e dipende anche un po' dal fatto che il nostro paese come si sa è molto indietro, indietro con le leggi. Anche se il mio non è un film di denuncia, non è un film militante, è una commedia sentimentale con Margherita Bui e Sabrina Ferilli. È un film che ha aperto un dibattito in Italia. Proprio perché arriva in un momento particolare come questo. Mi auguro di aver dato nel mio piccolo un contributo. Perché è un mio film che racconta una storia d'amore ma lo fa con un tono e con un'attenzione all'uguaglianza di tutte le storie d'amore. Non vuole raccontare un amore straordinario, un amore diverso, ma un amore uguale. E questo è stato accolto non solo dalla critica ma anche dal pubblico con entusiasmo. Questo significa secondo me che le persone, la società, è molto più avanti delle leggi, da noi. A diventare il solito cliché sulla scoperta dell'unisessualità in età adolescenziale, il suo film è fatto in maniera molto delicata, un amore tra due donne mature. Come due scelte differenti da quello che abbiamo visto finora? Sì, anche questa era l'idea. Il film è nato perché dopo Viaggio Sola volevo lavorare ancora con Margherita Bui, con cui mi ero trovata molto bene. E da un incontro con Sabrina Ferilli proprio al Festival di Cannes durante La Grande Bellezza, il film di Sorrentino, ho incontrato queste due donne, le ho immaginate insieme, ho immaginato appunto a una storia d'amore. E la cosa, la particolarità di questo film è anche questa, che in effetti, sempre parlo in Italia, perché all'estero se ne sono visti diversi, ma era anche la prima storia in cui le protagoniste non fossero due giovani ragazze alla scoperta della sessualità, della propria sessualità, ma due donne consapevoli, mature, due persone che vivono in un momento definito la loro storia, in questo caso anche la loro crisi, perché è un rapporto anche in crisi quello tra le due protagoniste. Però ecco, sono due donne grandi, ed era quello che volevo fare, era il tipo di racconto che volevo, quello tra due donne così. La Italian Style quest'anno presenta per la prima volta alcuni cortometragi. Secondo lei, su cosa dovrebbero puntare nel cinema italiano i nuovi autori? Io intanto mi sento un giovane autore, cioè non sento di poter dare consigli, anzi li ricevo volentieri dagli altri. Ogni volta che penso ad un film, cosa sarebbe giusto raccontare, cosa non è stato ancora fatto. Ecco, nel caso di io e lei dicevo, questa storia in Italia non è stata ancora fatta, mi sono sentita di scriverla, di farla. Non mi sento così all'altezza di dare suggerimenti agli altri, indubbiamente, però l'unico suggerimento che sento di dare è la, come posso dire, l'onestà dello sguardo, cioè che qualsiasi film si decida di fare, qualsiasi film un giovane cineasta decida di fare, lo deve fare con uno sguardo molto personale, molto attento, molto preciso, molto puntuale, qualsiasi sia il genere di film e di racconto.